Non ho detto che è inferiore, ho detto che è un grandissimo giocatore, che ho la differenza che lui ha fatto solo vedere, cioè solo, ha fatto vedere le sue cose a Barcellona, l'altro mi ha fatto vedere da tutte le parti, è stata decisiva da tutte le parti, ho solo detto che fosse io un atleta del suo livello, con il suo straordinario talento, mi chiederei sempre la questione se fosse la macchina o il piloto che è forte, e quindi per me un atleta così deve andarsi a misurare, e se scegliesse lui la squadra dove vuole andare, mi chiedesse fuori a Barcellona, ma questa è una situazione particolare, senza di dire che Messi non è un gran giocatore, io ho detto che Slater ha fatto bene alla Juve, all'Inter, al Barcellona e all'Ajax, Messi ha fatto bene al Barcellona.